Artigia Natale, ovvero il mercatino della creatività e delle produzioni locali. Oggetti unici, originali, di alta qualità, rigorosamente realizzati a mano e nel territorio del Pollino. Come ad esempio la confezione di veri e propri vestiti di feltro, disegnati e realizzati da Antonella De Stefano, o gli oggetti di design domestico dell'artista Claudia Zicari, e così via. Un'iniziativa svoltasi in prossimità del Natale al Porto Convento Francescano e che ha ripagato con la buona riuscita l'organizzazione curata dalla nuova associazione culturale di Castrovilla di Sifeum, con il patrocinio del Comune. È andata benissimo, siamo molto contenti, abbiamo ricevuto il consenso della cittadinanza, di gente che è venuta un po' da tutte le parti del circondario, da Saracena, da Frascinetto, da Cassano, proprio perché gli artisti e gli artigiani che sono stati qui con noi erano di tutti questi paesini e insieme abbiamo lavorato per rendere la manifestazione fruibile veramente da tutti. Dato il successo della mostra e la vitalità dell'artigianato dei nostri tempi, si potrebbe pensare di creare una mostra a mercato permanente, magari proprio lungo le viuzze del centro antico di Castrovillari. D'altronde l'idea di Sifeum era proprio quella di promuovere e far conoscere decine di artigiani, uomini e donne del Pollino, che fanno della loro manualità e delle loro idee dei potenziali capitali produttivi. Lo scopo era la promozione e la divulgazione di quello che è l'artigianato locale, la produzione handmade, cioè il fare, il lavorare con le mani, il realizzare con materiali poveri, con materiali anche di recupero, di riuso, di riciclo, prodotti straordinari, eccellenti da un punto di vista artistico. Gli artigiani quindi non sono scomparsi? No, assolutamente no. Ci sono moltissimi artigiani che hanno avuto veramente questa mattina, tutto oggi, il consenso di tutti, da chi lavora il piombo, da chi lavora il legno, da chi fa il traforo, da chi lavora addirittura la tessitura delle perline. Stiamo parlando ovviamente di un artigianato del 2011, quindi che segue quelli che sono i nostri tempi. Avete in mente di ripetere l'iniziativa? Sì, in mente c'è di ripetere l'iniziativa e soprattutto di portare avanti sempre di più quella che è la nostra territorialità, quindi anche facendo altre manifestazioni, ma sempre mantenendo il punto di riferimento dell'artigianato locale. Per finire, che cos'è SIFEUM? Che cosa fa? Allora, SIFEUM è un'associazione culturale che si occupa di servizi turistici, didattici e museali e l'obiettivo principale è proprio quello di rilanciare quella che è Castrovillari come punto di riferimento del turismo nella zona del Pollino. Grazie. 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 Grazie.